salve amiche ed amici da molto tempo che non faccio video con tanta frequenza come invece è successo con anteriorità e mi stavo preoccupando perché io quando riesco a compartire delle idee con tutte e tutti voi sono molto contento e spero che non siate anche tutte tutti voi perché vedo che mi seguite sempre di più però a volte non ho tempo e a volte non ho delle idee organizzate per filmarmi però vedo che quello che più riesco a fare è così un momento e filmarmi dicevo intanto guardate che bel cellulare che o ericsson sony del 99 beh dicevo filmarmi parlando così all'occorrenza perché non mi va di organizzarmi molti video voi via mi hanno detto ma perché non ti organizzi più strutturale non fai un video più strutturato con una tematica e mi piace registrarmi al basso comunque ho voluto anche cercare in google e trend i temi più visti e ho visto che di quello che è visto di più non nulla da dire quindi io non voglio girare delle cose perché mi seguono anche se mi piace ispirarmi a quello che la gente vede però ho visto già due o tre volte che sono entrato in google trend che i temi che più si vedono al momento che sono più cercati non non mi interessa parlare per esempio io avevo registrato qualcosa su woodstock però non perché era l'anniversario non perché era più visto se no perché semplicemente volevo parlare di jimmy andris e poi invece ho parlato di woodstock perché non riesco a mettere la musica se non ci sono i diritti d'autore e quindi io prima faccio un video e poi con google trend vedo se riesco a mettergli un titolo che che si veda di più però io ho già faccio un video non faccio come mi viene di farlo perché se no magari ecco ci sono molti temi interessanti ma sui quali bisogna preparare un video magari sia poco da dire io invece registro così poi l'ultima settimana sono stato molto occupato parte a fare l'ultimo video nel quale ringrazio tutte e tutti voi di aver superato raggiunto e superato le 50.000 visioni del canale e quindi grazie ancora una volta per seguirmi e poi sono stato occupato e dicevo in instagram perché ho caricato un mucchio di foto dopo aver intentato caricare foto in twitter ho visto che con instagram ti puoi collegare direttamente a twitter a facebook con un cellulare economico con il mio il galaxy young 53 60 o 5360 è più facile usare instagram che non entrare in facebook con tutte le opzioni che ci sono in facebook neanche dal tablet riesco a entrare bene in facebook e in twitter preferisco usare instagram soltanto ecco che vi chiedo a tutte e tutti voi che ci sono un mucchio di persone che riescono a caricare video in instagram ma io non ci riesco né dal mio cellulare economico né dal tablet che già android 4.2.2 non riesco a riedizione al video e non riesco a caricare il video direttamente da instagram qualcuno di voi mi può dare una suggerenza su come caricare i video in instagram perché veramente uno sforzo in mani so editare le foto e adesso ho caricato un'applicazione nel mio cellulare economico che si chiama insta che bellissime effetti speciali da alle foto però non riesco a caricare i video da nessuna parte delle persone mi hanno detto che si può editare un video nella con il computer da scrittorio e poi caricarlo attraverso il cellulare o il tablet ma non me lo accetta il formato non me lo accetta non so come editare e caricare video perché al limite lo posso carire e fare il video con foto o con dispositivi economici per esempio c'è questo cellulare che filma molto a bassa risoluzione un lgkp 215 che c'è un pessimo audio ma fa buoni video però non riesco poi a caricare dal tablet il video quindi chiunque di voi mi sarà consigliare cosa devo fare per caricare video in instagram o instagram melodica per favore quindi adesso passiamo niente ho visto un po di telegiornali come in pratica vado a fare adesso perché sta per iniziare ma ho voluto fare il video non importa del telegiornale perché niente si sta aggravando la situazione in ucraina che loro sono usciti negli anni 90 dall'egemonia russa perché caduta l'unione sovietica ma si direbbe che dal gioco economico e politico non riescono a diventare indipendenti e troppi stanno soffiando sul fuoco della guerra fra russia e ucraina speriamo che questo fuoco non divampi anche in occidente in europa e poi con quello che è successo fra israele e palestina che per fare un'opposizione a bashar ala sard hanno fatto avanzare l'issis però adesso lì se si è infiltrato in iraq in libano si sta infiltrando anche tutto il medio oriente e vuole andare in egito oltre che in palestina erano insorgenti quando contro il regime sirio adesso che invece vanno contro gli stati uniti e l'alleato iracheno sono dei terroristi però non li combattono in siria li combattono quando loro combattono fuori il doppio gioco della politica nord americana veramente è tutto uno schifo poi non finisco mai di ascoltare quello che succede in italia con sgomento era capriccio e dico ma che cazzo stanno a fare il nostro paese v non so io leggo però non mi dà conforto rischio riguardo la situazione del presente leggere tanto sembra quasi che non serve perché è solo per vivere in una realtà a parte anche se non mi scoraggio e continua leggendo però la nostra società si sta degradando così tanto che veramente sconforta una volta si pensava in termini positivi che leggere aiutava a vivere meglio e a migliorare la società adesso serve solo come rifugio dalla società e dal vivere male c'è troppa violenza sociale economica politica purtroppo la delusione più grande che non si riesce a salire da questo tunnel perché sembra che tutte le forze politiche sono uguali e questa tanto attesa rivoluzione grillina o pentastellata che si perde nei measmi della contrattazione di potere politica assomiglia a quella delusione che ci ha dato la lega a quella delusione anche storica che ci ha dato il partito comunista italiano di berlinguer a quella delusione che ci ha dato forza italia a quella delusione che ci ha dato la democrazia cristiana a quella del colusione che ci ha dato grazie il movimento sul partito socialista italiano a quella delusione che a molti ha dato giorgio almirante con il mio movimento social italiano a quante altre delusioni che ci hanno dato porca miseria i mortacci loro è sempre solo delusione a quella delusione dell'uomo comune del partito dell'uomo comune antipolitico ma quando vi mettete in testa che la politica può dare solo delusione non so c'è soluzione l'italia non lo so ecco perché io voglio parlare così a ruota sciolta senza seguire degli schemi perché se si parla di politica non si sa di che cazzo parlare e allora è inutile fare beh dall'ultima volta avete visto ciò finalmente un nuovo taglio di capelli che è semplicemente più corto di prima poi i vestiti sono sempre quelli di steli gli stessi perché sono disoccupato devo sfruttare quello che ho cioè fino a che non mi si rompe già negli ultimi 15 anni mi si sono rotte più di 15 camicie perché le metto di una o due alla volta infatti mi mancano le cose d'inverno sto con corse d'estate come potete vedere per andare a caccia e pesca però c'è un fagotto anzi due casse di quelle di cartone di camicie e canottiere d'estate perché perché ne metto una o due ogni estate e poi non le sporco così anzi sono stato un'estate con solo dei completi da ginnastica per esempio mettevo il karate che io karate g che io non faccio più arti marziali ma il karate ghi lo metto lo stesso e quindi c'erano dei pantaloncini corti per fare ginnastica e tutto le cose d'estate mi durano un mucchio perché a volte l'estate non è tutti i giorni d'estate fa freddo invece le cose d'inverno mi durano di meno perché le sfrutto di più c'è poco caldo d'estate molto freddo in primavera in autunno inverno neanche a parlarne quindi mi si rompono di più le camicie d'inverno poi che altre novità dirvi beh o delle cose da fare comunque vi ringrazio di seguirmi adesso devo seguire il consiglio di nogra e di tanti amici che mi seguono che è meglio che mi scrivo gli argomenti ogni giorno e magari farò un video la settimana perché vabbè leggere da tanta ispirazione però bisogna trovare degli argomenti perché uno magari legge guerra e pace poi di che parla di guerra e pace legge il ramayana e di che parla del ramayana magari indirettamente ti dà tanta ispirazione però bisogna prendere degli appunti io sono pigro quindi beh vi saluto questo allora è stato più che altro un video saluto grazie di seguirmi grazie di diffondere i miei video perché ci sono molti amici che gli fanno vedere i loro amici video grazie di distribuire il link dei miei video nelle reti sociali grazie di comprendermi e di apprezzarmi io sono disoccupato pochi risorse per fare video a parte una vecchia filmatrice del 2010 ma come me probabilmente molti di voi state nella mia stessa situazione forse per quello mi capite beh io è sempre un piacere condividere materiale con voi e soprattutto quando ricevo commentari mi piace anche di più perché sento che c'è un intercambio soprattutto vi pregherei se volete fare dei video commentari mettete nel luogo del commentario al video il link del vostro video che caricherete in youtube o in qualsiasi altro luogo e io lo vedrò mi piace ricevere delle video risposte genio ricevuta una allora vi lascio non voglio che questo video saluto venga troppo pesante e quando avrò qualcosa di meglio da fare sarà più lungo come è successo in passato magari mi fermerò con il cellulare vengono dei video video pessimi per io so che la gente mi capisce che sa che sono disoccupato non posso dargli un'edizione troppo lunga e poi non ho degli elementi nuovi che abbiano che registrino in full hd questa filmatrice firma in 720 x 480 allora grazie di tutto di seguirmi e di aver superato le 50.000 visioni mi raccomando fate vedere i miei video amici parenti familiari in modo che youtube in inizi a darmi qualcosa di soldi ciao un saluto dal vostro sentenziano